Maria Chiara Carrozza è la nuova Presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche, prima donna a essere scelta per questo ruolo in Italia. A nominarla la Ministra dell'Università della Ricerca, Maria Cristina Messa, con questa nomina il CNR torna a essere nel pieno delle sue funzioni organizzative e gestionali, oltre che scientifiche. Il ruolo che questo ente sarà chiamato a svolgere nei prossimi anni sarà strategico per la crescita di tutto il Paese e per la competitività internazionale, ha detto Messa. Maria Chiara Carrozza, 56 anni, laurea in Fisica, dottorato in Ingegneria alla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, è professoressa ordinaria di Bioingegneria Industriale, dirige e conduce ricerche nei settori della biorobotica, della biomeccatronica, della neuroingegneria e della riabilitazione, di cui è una dei principali esponenti. È stata la più giovane rettrice italiana e Ministra dell'Istruzione dell'Università della Ricerca. Essere la prima donna alla guida del più importante e grande centro di ricerca del Paese è una sfida e una responsabilità senza precedenti, ha commentato, ma anche un cambio di passo e di prospettiva.